Fare memoria sulla propria vita e dare gloria a Dio. Fare memoria sui nostri peccati dai quali il Signore ci ha salvati e dare gloria a Dio. È la riflessione offerta stamani da Papa Francesco durante la messa celebrata a Santa Marta. Commentando il Vangelo del giorno, il Pontefice si è soffermato sull'importanza di avere uno sguardo ampio sulla propria esistenza, sul proprio cammino, fatto di incertezze, di peccati, ma soprattutto di grazia e di speranza. Quando Gesù dice a Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, cioè sentire il Signore e fare memoria. Non si può pregare ogni giorno come se noi non avessimo storia. Ognuno di noi ne ha la sua. E con questa storia nel cuore andiamo alla preghiera, come Maria. Ma tante volte siamo distolte, come Marta, nei lavori, nella giornata, e fare quelle cose che noi dobbiamo fare e dimentichiamo di questa storia.